L'idea è audace ma sta già prendendo forma. Il sogno di vedere le Olimpiadi a Firenze è partito. Nella mente del sindaco Dernardella nel 2032 la città è tappezzata con i cinque anelli colorati, simbolo dei giochi. Si tratterebbe di costruire, e le premesse sono buone, un patto dell'appennino tra Bologna e Firenze. Tutto questo potrebbe partire però, ovviamente, solo se le Olimpiadi tornassero in Europa, dopo le già assegnate Tokyo 2020, Parigi 2024 e Los Angeles 2028. Nella mente di Dernardella e di molti altri, per la verità, sarebbe un modo per recuperare la candidatura italiana sfumata di Roma. Si tratta di un progetto che terrebbe legate non solo Firenze e Bologna, ma anche le due regioni da tempo amministrate dalla sinistra. È un'idea che serve anche a mettere in risalto tutte le potenzialità di un asse tra Firenze e Bologna, che si può costruire non solo sui grandi eventi, ma si può costruire anche sulla promozione economica, sulle infrastrutture, si può costruire sulle politiche ambientali, dello sviluppo del territorio. Firenze e Bologna insieme possono essere il terzo grande polo italiano che si frappone tra la capitale finanziaria Milano e la capitale politica che è Roma. Da Bologna sono arrivati già segnali positivi con il sindaco Virginio Merola, che ha già parlato con il primo cittadino di Palazzo Vecchio. Ma se le premesse e le intenzioni sono buonissime, resta la parte più concreta, quella degli impianti, e per Firenze di cose da fare e rifare ce ne sarebbero non poche. Tra stadi e palazzetti, piscine e poligoni di tiro, l'incognita che si profila è sempre la stessa che da anni è il tarlo di tutti i tifosi viola. Riuscirà la città ad essere pronta ad accogliere un evento di così ampia portata? La partita è ancora tutta da giocare.